Siamo qui con uno dei nuovi ragazzi della squadra, Tabitha Shaoinga. Prima di tutto, Tabitha, benvenuti all'Inter. Grazie. Puoi descrivere cosa ti senti dopo aver signorato per l'Inter? Sono molto felice. È stato il mio sogno di signorare questa grande squadra di Inter Milan, quindi sono un po' felice. Cosa significa l'Inter e l'opportunità per te? È un'opportunità molto grande per me, perché tutti i giocatori hanno un sogno di giocare per giocare con la migliore squadra, come l'Inter, la migliore squadra del mondo. Quindi questa opportunità per me è molto importante, perché ho bisogno di raggiungere molte cose nella mia carriera della futbolista. Quali sono i tuoi pensieri su Serie A? E quale escizionato sei per giocare in una nuova Champions? Sì, sono molto felice per giocare in questa squadra di Inter Milan, perché la squadra di Inter Milan è la più grande squadra del mondo. Ci sono molti migliori giocatori in questo paese. Quindi sì. Come descriversi tu stessi sul campo? Quali sono i tuoi principali tratti come giocatore? Sì, ci sono molte cose da fare. A volte pensiamo sul campo. A volte, ovviamente, se sto fu fuori dal campo, potremmo riuscire il mio cervello per preparare per i prossimi passaggi. a prossimi passaggi, a prossimi passaggi, a prossimi passaggi, a prossimi passaggi. E per me, per me, sono una persona che mi piace anche fare la futbolista. E mi piace, magari, a prossimi passaggi, a prossimi passaggi, a prossimi passaggi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.